Vecino! Vecino, vai calmo! Vecino, vai calmo che ci regalano! Vecino! Scupiamo la roba che la mano ci viene calciuti che ci fanno per male! E' altro che si è accogliato! Ma no! Il minuto, vai calmo! Tu... Tu... Tu as me Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as Mi Tu as Mi Gefrost Tu as Mi Gefrost Tu Ti Mi Magento Ti Mi A tutto il pomeriggio è troppo lungo e lungo perché mi ha scontro di non avere più risorse senza di... Non è male che io so qui, pensiero, riempiti di sole e paine Mi manca da morire questo piccolo grande amore Adesso che... ...sabrei cosa fai, adesso che... ...sabrei cosa fai, adesso che... ...fagli un piccolo grande... ...c'è un ragazzo... ...e proprio me... ...a bambarchito... ...c'è i Holy Stones... ...girava il mondo... ...la polkini... ...a far la guerra... ...cappelli, luci, non porto... ...mi vuole che ero... ...la suonare ogni parola... ...un strumento che sempre va... ...la stessa nota... ...il ripiano per non far rumore... ...ti addormenti di sera... ...e si risvegli... ...la polenta... ...la notte... ...la lumina... ...prox... ...del locale... ...està sonando... ...blute e listos... ...los che dividono... ...lampone del mar... ...vieni di whisky e margarita... ...tutto ad un fratto... ...la porta basta... ...e quel centrale... ...corsa... ...con una novità... ...da sicura... ...si mormora... ...che... ...i cannoni hanno fatto... ...la macchina è calda... ...dove ti porta... ...lo decida lei... ...certe notti... ...l'ho stata da risposta... ...e lei ti porta... ...i sentire che vai... ...certe notti... ...la radio... ...che basta... ...tu basta... ...tu basta... ...tu basta... ...zeomin ti porta... ...passori... ...ma la mia ta... ...la mia ta... ...e lei ti porta... ...alla mia ta... ... més press cravit... ...un' countio... ...ma la mia ta... ...IST 웃to n weitere... E ora il progetto inverso, un italiano che ha copiato i Rammstein, di da zero, sei buona, quando ritorni da scuola, perché ti voglio bene, d'accordare i tuoi amici e sceme. No, no! No! Sono stati stasera con noi! All'altra chitarra, vamo! All'altra chitarra, vamo! Alla terza chitarra, a terza anche basso, Giorno! E poi il nostro battenista Antonio! E poi, per servirvi al nostro servizio, alla voce Stefano! Grazie, grazie! Grazie! Si dai tu fiii? Si dai tu fiii? Si dai tu fiii? Si dai tu fiii? Sì, 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 sì Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.